500 posti di lavoro a rischio, cosa chiedete quest'oggi? Noi chiediamo sostanzialmente due provvedimenti, da un lato al governo ma anche alle commissioni parlamentari in giorni in cui si discute la legge di stabilità di ampliare le risorse e di riportarle al dato storico per evitare che 500 persone perdano il posto di lavoro. E l'altra cosa che chiediamo, di cui abbiamo già avuto una risposta positiva, è l'instaurarsi di un tavolo di crisi con la regione Piemonte affinché questo problema venga discusso, venga affrontato e venga al più presto risolto. Qual è il rischio concreto a seguito di questi tagli? Il rischio concreto è che bisogna tenere presente questo, il 40% dei nostri lavoratori appartengono a fasce sociali deboli. Si tratta di persone con disabilità o con difficoltà di carattere sociale, che però lavorano, hanno un loro reddito e danno un buon servizio alle scuole e alle famiglie. Mettere queste persone in difficoltà sarebbe veramente un disastro perché metterebbe in ginocchio i lavoratori ma anche le imprese. Quali sono le idee a cui state pensando in questo momento per combattere questa iniziativa di quest'Italia? L'incontro di questa mattina è rivolto a parlamentari, è rivolto alla regione Piemonte, alla provincia di Torino, alla città di Torino e una prima iniziativa per rendere pubblica la difficoltà che questo settore sta attraversando.